Il video che segue è un astuto esempio di come i media sono in grado di illudere le masse e le persone ignoranti e farle credere nell'inganno, nella burla e nella falsa realtà. Un sacco di video fasulli su YouTube spazzano via la vera educazione e le grandi potenzialità benefiche che internet può offrire. Ogni anno arrivano questi geni, tipo questo ragazzino che non conoscerà la differenza fra una resistenza ed un condensatore, but the show must go on, ma lo spettacolo deve andare avanti. Il video è dello scorso anno, ma sono certo che Max Lohan è in grado di spiegarvi a 13 anni la relatività e chi è Dio. Fate le vostre ricerche. Questo è veramente interessante. La vita reale nel laboratorio di Dexter. Hanno detto così. Il ragazzo prodigio con la sua idea poderosa, Max Lohan, condivide questa storia con stasera in Samu Antonò. Pensate che un ragazzo di 13 anni possa cambiare il mondo? Bene, questo può cambiare la vostra mente. Vestito col suo camice. Sì, vesto questo molto spesso. Max Lohan si trova nel vecchio locale caldaia dei suoi genitori trasformato in laboratorio. Sono nella mia caldaia proprio adesso. E spesso riflette sul futuro. Il futuro che immagino, francamente, è il futuro che tutti noi immaginiamo. Vuole rendere il mondo un luogo migliore. E per fare questo avete bisogno di una sola singola cosa. Se hai energia, se hai potenza, hai tutto quanto. Così per risolvere questo problema, alcuni mesi fa, Max ha preso l'affare nelle sue mani ed ha creato questo raccoglitore elettromagnetico da una lattina di caffè, alcuni fili, due bobine ed un cucchiaio. Mi ha costato 14 dollari. Il raccoglitore dirige onde radiotermiche ed un'energia statica trasformandola in elettricità. Questo filo prende l'elettricità dall'aria. Qui sotto la trasformiamo da corrente alternata a corrente continua. Abbiamo portato il congegno all'esterno ed abbiamo attorcigliato il fratello di Max con delle corde di luci LED. Peng! Un'invenzione da 14 dollari è in grado di fare questo. Immaginate lo stesso raccoglitore su una scala 20 volte più grande. La famiglia di Max è entusiasta di quello che ha compiuto e nessuno è più impressionato di suo fratello gemello Jack. Creare energia gratis da un congegno che ha fatto nel suo laboratorio con soli 15 dollari è abbastanza incredibile. Per quanto bello possa sembrare fin dal primo giorno di questo pianeta so che sono stato messo qui per un motivo e questo motivo è per inventare e portare il futuro. Max ha sempre ammirato Albert Einstein e l'inventore Nikola Tesla. Gli hanno insegnato qualcosa di più che semplicemente la scienza. Rendere il mondo un posto migliore per offrire al mondo quello che non ha così che non abbia da combattere per le cose di base come l'energia. Max si trova qui per il denaro o per il riconoscimento? Il mio obiettivo è per aiutare voi poi il futuro dove le persone possano essere felici dove le persone possano essere felici e sicure. Questo è un ragazzo con molta grande capacità. E che ci crediate o no Max è già pronto per seguire corsi universitari online con la MIT che spera di frequentare a tempo pieno fra pochi anni. Quando si comprende che l'energia è in formazione, guardate alle onde radio, ai segnali senza fili, tutto attorno a noi. Quello che contengono questi segnali senza fili sono informazioni sotto forma di energia. Trasmettono senza fili attraverso l'aria con differenti larghezze d'onda che contengono differenti codici digitali che vengono frammentati e reinterpretati, che vediamo come immagini sul nostro schermo ed anche con delle cariche elettriche, elettricità senza fili e tutte le cose che procedono con questo. E se pensate all'elettricità senza fili, bene, esiste. Che cos'è una microonda 5G Canon veramente? È una trasmissione di elettricità senza fili. Certamente non si può inserire un tostapane, ma se vi situate di fronte di sicuro sentirete questa energia elettrica. E che cosa contiene questa energia? Contiene informazioni che dicono alla tua pelle che la tua pelle brucia, anche se pensi che non lo sia. Hai la sensazione che stai bruciando quando non stai bruciando, semplicemente perché è l'informazione che contiene questa onda di energia. Pertanto, quando osservate in questa maniera, cominciate ad avere il concetto che l'energia è informazione. Una volta che vi trovate immersi in questo mondo digitale e la vostra estensione digitale è in realtà quello che si integra ed interagisce con il resto del mondo, ecco che hanno il controllo di tutte le informazioni che arrivano da voi, di tutte le informazioni che passano attraverso di voi, tutte le informazioni dove siete coinvolti guardano il vostro denaro, guardano tutto quello che passa, tutto quello che spendete. Quello che fanno gente è rimuovervi da ogni interazione col mondo reale e permettervi solo l'estensione digitale di voi stessi per interagire col mondo. Ad esempio, se interagite con qualcuno in un negozio, in realtà non siete nemmeno in grado di fornire il denaro da soli, dovete passare attraverso l'estensione digitale di una carta di credito e da loro piace veramente arrivare al punto dove non potete andare nel negozio assolutamente e possono consegnare direttamente a casa vostra e quando andate nel negozio non c'è il commesso in grado di prendere quello di cui avete bisogno per portarvelo via e tutto questo accade semplicemente ed ovviamente entrando ed uscendo da un supermercato. Una volta in grado di mettere paura nelle menti delle persone non sarete in grado di parlare nemmeno uno con l'altro fra di voi acquirente. Questo è un tipo di situazione a cui ci stanno indirizzando semplicemente controllando il flusso di informazioni e questo è quello su cui si basa il mercato, controllando il flusso di informazioni ed assicurando che la razza umana sia in grado di essere controllata con l'armamentario delle onde radio se arriva a questo. Vi traduco alcuni spezzoni dalla rivista Fortune dell'articolo del 13 febbraio 2018 dal titolo Le olimpiadi invernali di Pyeongchang stanno testandole al 5G per respingere i maiali. Ci sono diverse traduzioni sull'uso della tecnologia che stiamo usando senza conoscerne le cause future ma siccome ce la sciroppano noi felici senza sapere le controindicazioni consumiamo per essere alla moda e per seguire la moda. Perché il 5G non ha nulla a che fare con i vantaggi delle comunicazioni? Non mi credete? Andiamo a leggere qui e vediamo cosa succede. I primi a sperimentare il futuro della tecnologia wireless molto prima della maggior parte degli umani, vi ripeto molto prima della maggior parte degli umani saranno i cinghiali selvatici della Corea del Sud. Questo perché il 5G, la rete wireless di quinta generazione, sta facendo il suo debutto mondiale. La tecnologia verrà utilizzata per scongiurare i nocivi suini selvatici che vagano nella regione montagnosa attorno ai giochi con sistemi ad azione rapida che sparano raggi, sprigionano gas ed emettono ruggiti di tigre. Questo è solo l'inizio del 5G. Le reti wireless di quinta generazione sono progettate per essere veloci, circa 10 volte più veloci del 4G, a 10 gigabyte al secondo. Riuscite ad immaginare quanta energia si sprigiona a livello di onde radio? Si tratta di onde in grado di ledere le nostre cellule nervose. Il radar meteo è un pezzo di apparato di osservazione che visualizza le precipitazioni come la pioggia o la grandine. In realtà sembra una grande palla da golf su un T, ma all'interno c'è un'antenna a disco che gira intorno. Radar sta per Radio Detection and Ranging e, come suggerisce il nome, si basa sulle onde radio. Il disco invia onde elettromagnetiche a bassi impulsi che viaggiano alla velocità della luce. Quando questi impulsi colpiscono le particelle d'acqua, le riflettono indietro al radar, come l'eco che si sente dentro una galleria. In base al tempo che impiegano per tornare dal radar, si determina la distanza dal radar e la potenza del ritorno determina il tipo di precipitazione. Sto notando che crescono le richieste di come possano funzionare le tv satellitare se non esistono i satelliti. Avevo già ventilato l'idea della troposfera dove viene dimostrato che le forze armate usano questo sistema che è molto preciso nel video e se i satelliti fossero un inganno che trovate nella playlist Satelliti, Radio e Antenne. Vi invito a cercare gli strati dell'atmosfera con Google Immagini, così da visualizzare dove si trova lo strato della troposfera e della ionosfera, oltre agli altri strati sopra alla Terra. La troposfera è la più bassa dove accadono la maggior parte delle condizioni atmosferiche. La ionosfera è uno degli strati unici dove le onde radio e le onde televisive, in particolare delle bande di trasmissione e ovviamente di altre onde radio, rimbalzano per tornare a Terra. I primi Loran avevano un raggio di circa 1800 km, arrivavano anche a 5500 km. Non perché le onde radio rimbalzano, ma perché il raggiamento diretto del Sole le contrasta. Ma questa è un'altra storia. Ora, se qualcuno dice che è perché le onde radio rimbalzano sulla ionosfera, bocciato subito, perché il segnale, se arrivasse dall'alto, non potrebbe dare la posizione esatta, visto che la posizione viene calcolata sulla differenza del ritardo millesimale dell'onda radio. Ricordate che le onde radio non curvano e non seguono la presunta curvatura terrestre. Accordo che diventa prova di un potenziale derogatore per una guerra climatica diversamente intesa, se oggi non la si combina con le nuove tecnologie satellitarie di alta frequenza dei MOS. Possibilità messa a punto da oltre 70 anni, sia dall'allora URSS che dagli USA, che sembrerebbero le scoperte di Nikola Tesla, il quale può essere considerato contro la sua volontà il fondatore delle armi ad energia diretta del nuovo millennio, con l'MK Ultra e l'ARP. E che oggi, oltre ad emettere onde radio per le telecomunicazioni, sarebbe possibile destabilizzare economicamente interi paesi aggredendo i comparti agricoli, la salute. Le grandi antenne MOS potrebbero fare a meno delle scie chimiche, per ottenere gli stessi effetti prosciuganti e scissione di molecole d'acqua, per facilitare i processi di radiocomunicazione. Tutto ciò viene effettuato, chiariamoci una volta per tutte, con la scusa di eliminare le nuvole basse, che sono un ostacolo alle onde radio e per le telecomunicazioni in genere, in quanto disturbano e diradano le onde elettromagnetiche con il fenomeno denominato scattering. E poi, lo spettro visibile, o semplicemente la luce visibile, è solo una piccola parte dell'intero spettro delle radiazioni elettromagnetiche, che va dalle onde radio fino alle onde gamma. A causa di Marconi è stata creata e inventata la ionosfera. Il 12 dicembre 1901, Guglielmo Marconi e George Stevens Camp hanno sentito il debole click dell'alfabeto Morsk della lettera S trasmesso senza fila attraverso l'oceano atlantico. Questo risultato della prima ricezione del segnale radio transatlantico ha portato degli avanzamenti considerevoli sia nella scienza che nella tecnologia. Hanno dimostrato che le trasmissioni radio non vengono bloccate dall'orizzonte. Questo ha spinto Arthur Kennelly e Oliver Heveside a proporre, subito dopo, l'esistenza di uno strato di aria ionizzata nella parte più alta dell'atmosfera. Lo strato di Kennelly e Heveside adesso si chiama ionosfera. Nel 1902 Arthur Kennelly e Oliver Heveside indipendentemente hanno proposto l'esistenza di uno strato di atmosfera di ioni in grado di condurre l'elettricità e di riflettere le onde radio. Kennelly ha pubblicato e proposto la sua idea il 15 marzo e le ipotesi Heveside sono state rese pubbliche il 19 dicembre. Adesso lo strato si chiama la regione E. Tutti e due sono arrivati alle loro teorie in base all'osservazione dei segnali di comunicazione su lunghe distanze. Kennelly, un accademico ed un consulente di un'industria di ingegneria delle telecomunicazioni, hanno notato che la ricezione di Guglielmo Marconi a Newfoundland del segnale radio inviato dall'Inghilterra era molto meglio della teoria sulle onde radio che si potesse prevedere. Tuttavia Marconi non aveva alcuna spiegazione per quale motivo la curvatura della Terra non era in grado di bloccarle attraverso l'oceano atlantico. Kennelly ha ipotizzato che lo strato di gas ionizzato nell'alta atmosfera rifletteva le onde radio estendendo la loro capacità di propagarsi. Le onde corte potevano penetrare questa ionosfera ma le onde lunghe potevano rimbalzare. Questa proprietà poteva far sì che si curvassero attorno alla Terra oltre all'orizzonte. Allo stesso tempo Heveside, il fisico britannico praticamente un'autodidatta, è arrivato alle stesse conclusioni. La sola ragione per cui è stata introdotta la ionosfera nella scienza è stata per spazzare via la mancanza di curvatura. Ora ovviamente la scienza mainstream afferma che la ionosfera è un fatto dimostrato principalmente per i testi di Edward Hapelton, ma la ionosfera non dovrebbe mettere fuori uso i radiotelescopi e che ne è delle comunicazioni della NASA con gli astronauti dell'Apollo e che vogliamo dire delle trasmissioni live dell'ISS e i segnali laser che rimbalzano dalla Luna. Molte di queste presunte onde radio che rimbalzano sulla ionosfera succedono nelle zone costiere, per quale motivo non si riesce a far rimbalzare un segnale radio nella ionosfera sulle montagne rocciose? Non dovrebbe essere più facile far rimbalzare sull'ionosfera dalle montagne rocciose i segnali radio attraverso l'Oceano Atlantico? Per quale motivo non è una cosa così comune? Fino a Guglielmo Marconi le distanze hanno tenuto lunghe portate solo fra città costiere che erano in linea diretta, una con l'altra solo sulla terra piana. Iniziate a fermare i massoni che diffondono il propagarsi nel credo degli alieni? Come ho appena detto in questo clip audio, appena Neil parla, ecco che Houston risponde immediatamente dimostrando che non c'è alcun ritardo sulle onde radio ad una distanza che è quasi dieci volte quella dei satelliti geostazionari, i quali si trovano a soli 36.000 chilometri dalla Terra rispetto alla distanza della Luna di 384.400 chilometri. Tenete presente che quando parlano con la presunta ISS che si trova a soli diciamo 400 chilometri al massimo sopra la Terra, il ritardo fra domanda e risposta arriva anche a 4 o più secondi, a 400 chilometri e qui erano a quasi 400.000 chilometri. Se non riuscite a comprendere che tutto questo è una messa in scena, non c'è più nulla da fare gente, siete spacciati. Nel 1969 non c'era alcun ritardo con la tecnologia disponibile all'ora dove si trovavano ad una distanza quasi mille volte superiore a quella della ISS. È semplicemente ridicolo. Ma ascoltate questo clip audio di 10 secondi che non è andato perso. Ascoltate quanto è annoiato Neil nel momento in cui a Luna, forse aveva la Luna? E ascoltate con che rapidità gli risponde il centro spaziale di Houston? Praticamente all'istante, senza alcun ritardo. Questa è una presa in giro rispetto a quello che impongono attraverso i libri di scuola e non solo i libri di scuola. Nella descrizione trovate il link completo dell'audio dalla pagina della NASA. Come avete sentito hanno risposto immediatamente a Neil, così eccitato per essere appena atterrato sulla Luna. Immediatamente hanno risposto. Ascoltiamoli ancora una volta e fate attenzione a quanto era annoiato Neil, appena dopo aver posato il lem e pensate alla gioia solo di fare un gol con la squadra di calcio del paese. Ascoltate la sua voce. 50 anni di scandalose pantomime. E questa signora è una ingegnere civile che ci spiega le caratteristiche importanti della British Telecom di Birmingham e le comunicazioni dirette con la British Telecom di Londra. Ma sentiamo direttamente questa gentile signora. Come avete sentito, per avere la comunicazione diretta delle onde radio a vista con Londra e altri ripetitori. Significa che grazie alla topografia hanno fatto in modo di ottenere la vista diretta con la British Telecom di Londra. Ora, se ci affidiamo a queste notizie, non ci sarebbe stato bisogno di costruire questi due obbrobri in queste due maggiori città del Regno Unito, Londra e Birmingham, e ovviamente in tante altre città, per far sì che comunichino una con l'altra sempre a vista. Ovviamente la comunicazione fra i due ripetitori, di Londra e Birmingham, è una di maggior traffico radio e televisivo. Andiamo a vedere le altezze fra i due punti di riferimento. 281 metri è l'altezza massima della torre di Birmingham, ad una distanza di 161,38 chilometri. Risulta, risulterebbe una curvatura di 809 metri, ma la torre di Londra è alta solo 231 metri. Come fanno i due ripetitori più grandi del Regno Unito a comunicare fra loro in vista diretta? Le masse stanno imparando che sono state avvelenate attraverso i loro cibi, la loro acqua, le medicine e i *** che sono stati distribuiti dai loro medici di fiducia. Sono stati condizionati mentalmente, controllati mentalmente con il lavaggio del cervello attraverso i mainstream e i di media. Sono diventati gli obiettivi delle armi di onde radio, di scie chimiche e della manipolazione meteo che le ha rese vittime della guerra psicologica. Tassazioni, debiti basati sul sistema economico, propaganda, paura dell'attività, guerra dei profitti, eugenetica, attacchi false flag, eventi e inscenati, avvenimenti per tenere le masse distratte, strategie per dividere e conquistare, frode su nomi legali e altro. Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso i link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist su divisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito del regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore. Ma non impongo nulla? Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento.